Io cercherò di parlare degli effetti del cambio climatico che voi tutti i giorni subite sulla vostra pelle, non in modo pessimistico però, non in modo negativo. Io voglio farvi capire che il cambio climatico può essere anche un'opportunità. Vedete, l'immagine che voi vedete è quella di una montagna che ha un crinale e la parola crisi in greco significa crinale. Perché crinale? Perché la crisi, il crinale impone una scelta, una scelta di andare da una parte piuttosto che dall'altra. Ecco, voi siete di fronte in questi anni a delle scelte, delle scelte che possono essere, direi, elementi di progresso per la vostra azienda, non elementi di disagio o di perdita di qualità o di produzione. Quindi io cercherò di farvi capire come le due cose, il riscamento globale, sia fortemente collegato alla vostra verità economica, come le due cose, in fondo, devono, in fondo, piacciarle, devono essere legate. Questo è un quadro generale, ed io non entro nel dettaglio, ma solo per farvi capire come il cambio climatico che non è solo legato all'aumento di temperatura o alla cattiva stile delle piogge, ma anche all'aumento della CO2, è in effetti fonte di problemi, alcuni problemi, voi li avete verificati, la vostra pelle dicevo, quindi l'alterazione del processo di maturazione, cioè l'accelerazione dei fenomeni di maturazione, l'ostraicidrico, cioè la mancanza dell'acqua e almeno alcuni di periodo dell'anno, i fenomeni di ustione sulle barche, sono cose macroscopiche che si vedono, sono cose molto più intime, delle cose molto più, direi, retondite, come il cambiamento della vita, per esempio, della biodiversità del suolo, come cambia il comportamento dei batteri, dei funghi, come cambia il comportamento degli insetti, come cambia lo spettro floristico, ci sono cose quindi molto meno evidenti, ma altrettanto importanti, che hanno un impatto più a lungo periodo, forse apparentemente, economicamente non dicono niente adesso, ma in futuro certamente avranno molto più importanza. E quindi noi dobbiamo reagire a questo, reagire in questo momento vuol dire chi può spostare la viticoltura in zone più fresche, modifichiamo lo stile dei vini, e questo lo farà Totarella con le sue capacità, con la sua scienza, cioè lui cerca di adattare la materia prima che arriva in cantina al gusto anche del consumatore, che cambia, modificare, modulare le tecniche culturali, questa forse è una cosa che voi potete fare in tempo breve, e poi ci sono gli interventi genetici, che sono più lunghi nell'applicazione, ma sono i più efficaci, sono quelli che danno, parleremo di porti innesti noi, in questo campo, ma ci sono anche altri interventi che potrebbero essere utilizzati. Non entro nel spiegarvi cos'è successo negli ultimi 70 anni, 80 anni della nostra viticoltura, qui ci sono alcuni fenomeni che sono successi nel cambiamento, in particolare il raccoltamento del ciclo vegetativo, ogni grado di aumento, ci sono 6-8 giorni di raccoltamento delle fasi fenologiche, dal germogliamento fino alla maturazione, e in effetti i fenomeni di accelerazione sono molto diversi nelle fasi, per esempio il cambio climatico ha provocato una riduzione di 6 giorni nel germogliamento, non è anticipato di molto, ma ha cambiato in modo sostanziale anche 20 giorni il tempo di maturazione, quindi le varie fasi fenologiche sono fortemente in modo differenziato, modificate dal cambio delle condizioni climatiche. Anche qui una serie di indicazioni, volevo farvi notare delle cose che sembrano meno importanti, per esempio il cambiamento della fertilità dei suoni nell'erosione, le modificazioni delle manipolazioni di parasiti vegetali ed animali, tutta una serie di altri fenomeni che voi non vedete, ma che sono invece molto importanti in medio e lungo periodo. una delle cose direi più drammatiche, in termini di previsione, se il clima non cambierà, se il clima continuerà ad avere questo incremento di temperatura, si prevede che nei prossimi anni immediatamente ci sia un aumento di temperatura di 2-3 gradi, che sembra poco, dal punto di vista così della nostra sensibilità, ma per le animali e per le piante è una cosa enorme, vedete tutte quelle zone che sono segnate in più scura, qui non si vede bene, ma in blu, sono le zone che nel 2050, ma da arrivare un po' alla volta, saranno soggette a desertificazione, cioè in quelle zone sarà molto difficile operare e fare una viticoltura se non si ha acqua a disposizione, perché le condizioni di fertilità dei suoni saranno talmente degradate, talmente alterate, che non si potrà più avere una viticoltura conveniente. Allora, io ho messo il ruolo del clima, rischi e opportunità, vedete, il clima condiziona la vita a tre livelli, un livello sulla produttività, quindi questo può succedere con una grandinata o una gelata, è un fenomeno metodologico anche una grandinata, anche una gelata, e quindi noi abbiamo un rischio sulla produttività, quell'anno perdiamo la produzione, una parte. Poi abbiamo invece una variabilità climatica regionale, un stagionale, che è quella che caratterizza direi attualmente, un anno caldissimo, nel 2014 piove, molto, un sacco di quadro, nel 2015 molto caldo e poi improvvisamente durante la ventiera, quindi abbiamo una variabilità della produzione della qualità, però quello che noi avremo in mezzo a lungo periodo è il cambiamento strutturale del clima, cioè l'incremento della temperatura e il cambio delle piogge provocheranno veramente dei grandi problemi ai quali noi dobbiamo adattarci, perché mentre negli eventi climatici e ambientali, quello della grandinata o quello anche delle annate più o meno variabili, come tutti voi sapete, non possono farci niente, qui dobbiamo invece reagire, e l'adattabilità è la parola d'ordine sulla quale noi dobbiamo operare. E qui ci sono alcune delle attrattive, io non entro nel dettaglio, ma naturalmente tra queste vedete il cambio varietale, ma non si può fare sempre con grande facilità, come non si può anche delocalizzare la viticoltura, invece bisogna investire nella creazione di nuove varietà, e qui c'è il discorso dei molti investi, ma anche delle varietà che nei prossimi anni speriamo di poter modificare attraverso i termini di gerettica, non con l'incrocio, ma attraverso l'introduzione di geni che consentono per esempio nel caso della società di avere un miglioramento nel rapporto dello stress osmotico, e quindi una, direi, introduzione di tecniche di gestione dei vigneti e delle cartine. Cosa fare allora? La soluzione è nell'innovazione, l'innovazione è direi il motore con il quale noi dobbiamo reagire, non possiamo contentarci di subire, non possiamo sperare di cavarcela con le risorse intellettuali o l'esperienza degli anni passati, dobbiamo mettere in atto una serie di interventi che sono prodotti dalla ricerca, sono prodotti dalla sperimentazione, in caso stesso voi appartenenti a questo gruppo importante, questo URT, che è un gruppo fortemente, direi, portato all'innovazione, dovrà nei prossimi anni dare alle aziende che sono soci di questo gruppo degli elementi di progresso, cioè dare a loro qualcosa in più per l'altro. E quindi l'innovazione è il prerequisito per trovare delle soluzioni. Quindi l'innovazione si forma attraverso una collaborazione tra aziende e università e serve, come dico, attraverso anche il confidenziamento, a portare rapidamente l'innovazione. Qui ho messo i cinque punti, non entro nel dettaglio, su cui si sta sviluppando in questo momento l'innovazione, la ricerca di soluzioni al problema del cambio climatico. Da un lato la legge di precisione, che è un argomento fondidabile per razionalizzare le differenzioni, cioè per diminuire la variabilità, vedremo nelle prossime slide, per consentirci di capire, di prevedere cosa succederà in quel vigneto, non di subire e intervenire quando le cose sono successe, ma di capire con un altissimo, di qualche settimana, di qualche giorno, quello che potrà succedere e quindi reagire. L'altra cosa è la sostenibilità con le resistenze, cioè riuscire a trovare dei sistemi di resistenza, anche i porti in destra, per esempio, allora le nuove varietà tolleranti, biotici, quindi lo sviluppo di, diciamo così, di varietà che possono essere coltivate senza i trattamenti che noi facciamo adesso, non i porti in destra e riuscire a dare l'impatto ambientale. Non entro nel dettaglio, ma tanto che poi richiederemo alcune. Una cosa che abbiamo dimenticato in tutti questi anni è il ruolo strategico che ha la radice. Noi siamo abituati a vedere la nostra pianta dalle foglie, dai germogli, dallo gruppo, dalla produzione. Non ci rendiamo conto che tutto quello che vediamo il mondo è il risultato di come vive la radice. Il cervello di una pianta è nella radice, è la radice che gestisce tutto quello che poi voi vedete e raccogliete. Guardate, qui ci sono sei esempi di radici. Questi qua sono la testimonianza della sofferenza di queste piante. Direi la prima è una radice che va in profondità, la seconda è una radice addirittura che cerca di scappare dalla profondità, si sta piegando così, vuol dire che è in una situazione di stress, ilico, di eccesso di umilità. Quella è una buona radice per esempio, questa è una radice che ha trovato un punto di ostacolo, un crostone e quindi va in orizzontale per un po' approfondirsi, quella è un'altra radice che è sia in profondità e poi è di salita e così viene. Se noi analizziamo il comportamento di questa radice comprendiamo cosa c'è sotto e quindi cosa dobbiamo evitare. E naturalmente il comportamento poi di una parte dell'Italia che soffre lo vediamo dall'esterno, quindi tutte le condizioni di compattamento per esempio, tutte le situazioni di non lavorazione fatte con le frese che creano le sole di lavorazione, la perdita di sostanza organica, il problema dei nematodi, vettori di bianosi che deboliscono la pianta e quindi riducono la capacità di reazione anche a queste cose, quindi la necessità di dover utilizzare delle piante, dei pianti vegetali che riescano ad eliminare o ridurre l'effetto di questi nematodi e quindi gli stress idrici per eccesso di acqua o anche per mancanze in alcuni casi, l'eccesso di azoto molto spesso, tutta una serie di cose che si percuotano negativamente sul tratto radicale. Un intervento molto efficace, molto semplice che però non è molto utilizzato da noi, da noi per dire l'Italia, ma è molto usato nei paesi come la Germania, la Francia, la Svizzera, l'Arao, cioè quello di utilizzare dei riper, cioè di lavorare non in superficie che non serve un picco seco, perché serve evitare la concorrenza delle specie infestanti eventualmente, ma anche lì se noi lasciamo il prato abbiamo un terreno che ha portanza, che può sopportare il peso crescente delle macchine che usiamo. Voi paragonate le macchine attuali quelle di 15-20 anni fa, i trattori sono molto più pesanti, si portano atomizzatori di 10-15 quintali, le vendemiatrici, tutte macchine che compattano, stressano il fuoco, lo rovinano, allora dobbiamo reagire, condizioni di importanza migliori, ma non solo, dare in profondità ossidere, dare in profondità la possibilità a queste radici di vivere. Le radici non vivono senza ossidere, perché l'attività radicale è un'attività di respirazione, come noi respiriamo, la lì se respira in profondità, si assorbe le reti minerali, li assorbe perché mette in atto un meccanismo di sostanze di trasporto all'interno della radice, frutto di un metabolismo, frutto di una respirazione, quindi assorbe quello che serve solo se può respirare, e può respirare solo se noi viviamo ossidere, solo se noi riusciamo a con dei riper di diversa forza a dargli. Il portidesto è fondamentale nella piatta, vedete qui sono due ricerche, una in Toscana e una in Puglia, che dimostrano come la produzione per ceppo di queste pizze di questo vigneto è legata quasi il 50% al portidesto, non è legata alla varietà o all'annata, ma è il portidesto che decide quasi la metà della risposta della pianta all'interno di produttivi. E qui abbiamo veramente in questi anni dimenticato questa importanza, perché gli ultimi portidesti, pensate, li hanno fatti per la filossera e per i peni calcari, a fine 1800, 1888 è nato l'ultimo portidesto, quello che voi usate, i vari Pausen, i vari 140 lugeri, il Cooper, i percentuali vendiati, sono tutti fatti alla fine dell'altro secolo, dell'800. Dopodiché ci siamo affermati. perché? Perché abbiamo sottovalutato il ruolo del portidesto e perché le condizioni di coordinazione erano molto piacevoli, si lavorava con gli animali, si zappava, non c'era il rischio dello stress, i terreni venivano, spenti un vigneto, venivano lasciati riposare 4-5 anni, ciò che noi non facciamo più. Quindi noi ripiantiamo un vigneto in un terreno stanco, in un terreno che ha un carico biologico altissimo di animatori, sia parassiti che vettori, non abbiamo la sensazione organica, e quindi mettiamo i nostri portidesti in una condizione molto difficile. Quindi costruire i nuovi portidesti è stato per noi in questi 30 anni un progetto importantissimo. Qui ci sono 4 portidesti della serie M, vedete, M1, M2, M3, ragazzi, questi sono i genitori di questi portidesti, abbiamo introdotto il colpifoglia, che è una specie che non si è mai usata, ma che vive in Arizona e nel Texas nelle condizioni più difficili, perché sono condizioni subdesertiche, quindi introdurre sangue di colpifoglia vuol dire introdurre una grande resistenza alla siccità, per esempio. Abbiamo potenziato la presenza della berlandieri che è entrata 2-3-4 volte nei portidesti, non è più per le berlandieri per i pari, ma per le berlandieri, e ancora per i berlandieri, e ancora per le berlandieri. Ci abbiamo cercato di istituire il sangue della riparia con le berlandieri sempre mantenendo la capacità di radicare bene. Allora, questi 4 portidesti, cui il 4, l'M4 è certamente il prototipo per una viticoltura difficile di stress, vedete, guardate le differenze e qui sono tre zone dell'Italia, Trentino, Toscana e Calabria, quindi come vedete con i vari colori sono le quantità di radici dei vari porti innesi, il confronto verso il 3, il pause, M1 e M4, M4 è il blu, M1 è il rosso e il verde è il pause. E guardate come nei tre ambienti la disposizione di radici è molto diversa, per esempio, non so, in Calabria, in profondità abbiamo pochissime radici, cioè lo stress, l'accesso di acqua in quell'ambiente probabilmente ha provocato l'eduzione. Guardate invece in Toscana come ci sono molte più radici in profondità e come l'M4 si è il porti innesi che va più in profondità, mentre in Trentino, in condizioni molto diverse, molto particolari, sono tutte quante in superficie radici e in superficie più importanti di tutte le M4. Quindi vedete come i tre porti innesi distribuiscono in tre zone diverse le loro radici. Un altro aspetto importante che abbiamo sempre questo valutato è il rapporto tra quantità di radici e quantità di apparato foliare. Perché questa considerazione? Perché un po' come quando noi, non so, abbiamo un grande fisico potente, abbiamo piccoli piedi, quindi abbiamo una certa facilità nel muoverci. Allora, se io ho un apparato radicale molto grande, posso pensare di avere anche un apparato fogliare molto grande. Quindi l'equilibrio nasce da un buon rapporto tra questi due. Se voi guardate, i ponti innesi che sono qui in basso, questo è un terreno suscitoso, il bitigno lo uscirà e il terreno suscitoso è d'estate. Guardate, adesso qua, con 120A, hanno praticamente poche radici, diciamo così, in relazione all'applatto radicale che è quasi uguale. Se io vado sul PAO, se vedete, ho un ablatto aereo abbastanza modesto, ma ho il doppio di radici. Con l'M4 io riesco ad avere foglie U, ma naturalmente molto di più di quanto ho con l'SO4, ma la cosa importante è che ho molte radici, quindi ho una capacità di assorbire acqua, per esempio anche in stress, comunque di reagire anche ai danni che può provocare qualche nematode. E la stessa cosa capita in terreni, vedete, che sono umidi, spinti in primavera, come capita spesso anche da voi, di avere tanta acqua in primavera e poi l'estate andare in sofferenza. L'M2, in questo caso, vedete, è quello che riesce ad avere un apparato aereo molto interessante, ma da avere molte più radici. Questo è importante. quindi questi porti innesti nuovi riescono a reagire meglio allo stress di quelli vecchi. Qui ci sono alcune costituzioni sulla produzione, sullo zucchero, qui non lo scerà sempre al confronto, è stato uno dei vitini su cui abbiamo lavorato molto, ma vedete come, in effetti, la produzione per ceppo sia su vitigni regionali che su vitigni sullo scerà è, direi, molto diversa nei porti innesti enda rispetto agli altri porti innesti. Questo è un esempio molto facile da capire, siamo a Ruffino, 2013, anno di Sissitoso, guardate, qui abbiamo il Cabellet su 1.41 e lì su M3. In differenza, qui siamo l'accogliente campione per le analisi, per fare controllo, non serve tanti analisi per capire che i due filari sono completamente diversi, ma l'adattamento di quel porti innesto a quel suono e a quell'annata è certamente migliore. ecco, questi porti innesto sono stati fatti dall'Università di Milano, attraverso un finanziamento fatto dalle fondazioni bancarie, che si è costituita da una società fatta da 10 grandi aziende italiane, che ha acquisito il brevetto dall'università e l'ha poi inceduto a BCR per la moltiplicazione e il BCR, riuscito, è il dinaista che nei prossimi anni ha l'esclusività per produrre le piante. Ecco, ancora una volta l'importanza di questo gruppo, di questo gruppo, di questo gruppo a cui appartenete, di trovare per primo in Italia in modo diffuso questi porti innesti. Questa è una grande possibilità che abbiamo nei prossimi anni di valutare anche da voi il valore di questi porti innesti in condizioni anche difficili in particolare. Non entro nel dettaglio, ma un altro aspetto molto importante in questi anni, abbiamo esagerato molto spesso nel allevare rapidamente una vite in produzione. I più anziani tra voi si ricordano sicuramente come ci vorrebbero 3-4 anni, 5 anni prima di arrivare ad una pianta sviluppata. Adesso in due anni la pianta produce. Qui addirittura siamo in Sicilia, vedete? Questa è una pianta che ha due anni, è il secondo anno. Tra l'altro è il primo anno, cimato, due femminelle, la struttura della pianta è su due femminelle. Ecco, voi immaginate quel fusto, quella pianta, fusto piccolo così, quello non crescerà più tanto. Non potrà mai direttare un grande fusto, perché il fusto della vite, che è una liaga, non è come la fusta di un mandorlo o di un pero. Cresce molto poco, hanno già avuto un fusto particolare. Quella pianta sarà sempre una pianta molto soggetta allo stress, molto più soggetta delle altre piante ugualtate. Cosa succede? In quelle piante così stressate, l'assorbimento dell'acqua nel suolo è inadeguato al consumo delle foglie, che sono molto più sviluppate delle radici, e si creano queste cavità, come delle bolle d'aria nel sistema silematico. Cosa provocano? Provocano questi dissecamenti. questa è una delle cause più importanti di dissecamento, che voi date colpa all'escapoli, date colpa all'anate del legno, è molto spesso dovuta al dissecamento provocato dalla morte all'interno del fusto, di quelle cellule vascolari, dell'oxilema, tra piuttosto la reazione di chiusura delle tiglie, e poi si va, ecco. Dopo 7 o 8 di 10 anni queste piante cominciano a depredire, perché hanno la metà della loro capacità di trasporto. E poi naturalmente la cosa si peggiorano, è diretta poi esca, chiamata esca, ma esca non è una conseguenza finale. Qui ci sono delle necrosi da carni e cosiddette, che sono dovute a queste cose. L'altra cosa importante è lo sviluppo della biodiversità per le resistenze. Qui abbiamo un esempio di pomodorini, dei pomodori, non sono mica nati così questi qui. La natura fa un solo pomodoro, che lo avviene in quell'ambiente e basta, perché l'obiettivo della natura è di avere un individuo che meglio si adatta agli altri. L'uomo ha creato la biodiversità, l'uomo ha creato centinaia di tipologie di pomodoro. Ecco, noi dobbiamo pensare di fare la stessa cosa con la vita, ma non per perdere le varietà. Anzi, dobbiamo tenere le varietà nostre, ma creare in quelle varietà dei fattori di resistenza. Vi faccio un esempio di cosa ha provocato il freddo dal 1300 al 1700 in Francia, in Champagne, vedete. Qui abbiamo un grafico molto bello, vedete, dal 1000 dopo Cristo fino al 2000, quello è il valore medio della temperatura, quello è il punteggiato, e tutte le curve che vedete sono le variazioni di scarti della temperatura in più o in meno rispetto alla media. Vedete, abbiamo un periodo molto caldo in Europa, dal 1200 al 1300, si chiama offrimo climatico medievale, e la Champagne coltiva Pinot Nero. Non faceva plumante, non faceva vini frizzanti, faceva un Pinot Nero. Improvisamente le cose cambiano, dal 1350 più o meno l'Europa si saffresa e naturalmente il Pinot Nero non matura più, non riescono più a fare un Pinot Nero. Cosa fanno? Coltivano il Guè. Il Guè è un vitigno che veniva dalla Pannonia, dalle regioni dell'Ungheria, da una zona molto fredda, maturata in condizioni anche molto difficili. Questo Guè si incrocia con il Pinot Nero, un incrocio spontaneo, un romolo, una selezione, ed è già lo Chardonnay, lo Chardonnay, il Prandonnet, Morioso, tutti figli di quell'incrocio spontaneo. Il punto di minima è il 1609 con la grande gelata e naturalmente quello rappresenta il momento in cui nella Champagne cambiano le varietà. Si riduce la zona di cultivazione, della zona che attualmente è cultivata più o meno, ma sui teatron non vengono più che andate né il Pinot Nero né il Guè, ma l'incrocio di Pertorba. Questo per dire come l'uomo ha sempre reagito alle condizioni dentali ed è stata un'opportunità, perché la qualità non poteva essere data da Guè. Il Guè è un vitigno, il Guè in francese è dispersativo, è un nuvazza, ecco per intenderci. Lo Chardonnay nasce dall'incrocio del Guè e Pinot Nero ed è il grande progresso genetico. Allora l'incrocio diventa costruimento fortidabile, qui abbiamo un esempio di incroci fatti in questi anni, utilizzando anche la resistenza di questi vitigni, quello è ungherese e questo, si bianchi un credere, il tocco è migliorato, il sogno è migliorato, è una strada, ma non è l'unica strada e non sarà la strada più importante. La strada più importante, non è più nel dettaglio, si chiama correzione del genoma. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi riusciamo a operare con un'operazione di microchirurgia sul DNA, ma non solo GM, togliendo quel gene o quei geni che impediscono alla nostra vitis vinifera di esprimere una resistenza. La vitis vinifera dentro di sé ha un dominio di 500 geni di resistenza alle trattie, ma non si esprime. C'è un sistema di controllo che non è stato rimosso dalla rivoluzione e quindi impedisce a queste piante di... e noi possiamo togliere adesso questo qua, con quella della genoma. Come si fa? Per la scoperta è una realtà recente e viene dalla medicina umana. I batteri, per difendersi dai virus, sono nemici i batteri e i virus, cosa fanno? Provano degli enzimi di taglio. I batteri usano questi enzimi e tagliano pezzi, il DNA del virus. Il virus è una sequenza di RNA, è un RNA. Ecco, noi utilizziamo questi enzimi di taglio tutti i punti particolari, riusciamo a tagliare il DNA della vite nel punto in cui c'è il gene inibitore, togliamo quel gene e la pianta avrà la resistenza. Noi abbiamo già degli sciatone resistenti all'ovidio, perfettamente all'ovidio. Adesso stiamo introducendo, diciamo, togliendo la parte dell'inibizione della peronospora e avremo anche poi una pianta. Ecco, vedete l'operazione del schifo un po' meccanicistico, vedete, l'escavatore che prende il pezzo che non serve, il cane lo prende, lo porta, lo sborda, lo tira via. Cioè, è un'operazione sempre complicatissima, ma ci può fare. I progressi della ricerca molecolare sono veramente importantissimi. L'ultima cosa, e poi finisco con la cinque minuti, è quello dell'abitico 2, è precisione. E' che io credo che noi possiamo reagire allo stress prolocato dal cambiamento climatico coltivando in modo più ragionato i nostri vigneti. Cosa vuol dire ragionato? Vuol dire che noi, purtroppo, nella nostra mancanza di conoscenza molto spesso, non consideriamo che un vigneto è una entità biologica estremamente differenziata. Non c'è omogeneità. Le nostre piante non sono tutte uguali. Voi sapete benissimo quando andate a potare che c'è la terza rigorosa e quella debole. C'è quella che fa 1,2 kg, quella che ne fa 2 kg d'uva. Ci sono zone di un vigneto più fertile e una zona meno fertile. Però, purtroppo, non riusciamo sempre a secondare queste differenze, non siamo a correggere. Anche perché, se una volta erano i nostri nonni a potare e parlavano, direi, alle viti come si parla con un umano e quindi ragionavano. Adesso chi pota? O sono persone che vengono da altri luoghi dell'Europa dove non conoscono le viti, o i giovani molto spesso non hanno per la sensibilità, o ancora si può meccanizzare anche la potatura. Allora, l'uva di cultura di pesce gerome vuol dire conoscere la variabilità naturale che è molto forte, mancano le viti. Questa variabilità ha diverse origini. La variabilità genetica, quindi il materiale genetico è eterogeneo. I terreni sono diversi in un vigneto, quindi danno risposte diverse alla pianta. Le malattie, il virus, la malattia e l'esca e poi anche la gestione culturale può essere un fattore di variabilità. Questo, vedete, è un esempio di un vigneto che viene poi la varietà potenziata dalle annate. Vedete, le zone chiare e scure indicano un diverso vigore. Allora, le zone, diciamo così, interne, quella zona chiara è una zona poco vigorosa, le zone più scure sono quelle vigorous. Quella molto molto scura è quella demolissima, c'è un problema probabilmente. Guardate nelle annate come cambiano le disposizioni dei colori. Vedete, come cambiano, come anche l'annata può modificare il vigore e quindi naturalmente la volutività. Quindi per noi è molto difficile interagire con l'annata. non sappiamo quello che succederà poi dopo. Guarda, qui è un esempio di una valutazione fatta con una tecnica abbastanza, la vediamo, sofisticata, moderna, che misura il vigore della pianta dall'emissione di una radiazione infrarossa dalle foglie. Una pianta che fa fotosintesi e utilizza solo l'1% dei fotoni per fare fotosintesi, la gran parte di questa energia viene rispedita all'atmosfera, viene ridata all'atmosfera sotto forma di radiazione infrarossa. Per cui una pianta che fa molta fotosintesi, che è rigorosa, emette molte tra rosso, una debole meno. Allora, qui abbiamo fatto un'analisi, vedete, di confronto. Questo è un vigneto in cui abbiamo considerato cinque suoni diversi con dessa possibilità. Se io faccio poi l'analisi del mio vigore, vedete, c'è una corrispondenza tra quei suoni e la risposta alla pianta. Questi sono i cinque colori che vedete, o quattro, rappresentano quattro vigori diversi. Allora, io riesco attraverso l'emissione di infrarossa con dei misuratori, vi faccio vedere, molto semplici, apparentemente semplici, qual è il vigore di questi. Non vado più ad analizzare il terreno come una volta, non faccio più cazzi, non faccio più analisi sofisticate. Mi baso solo sulla risposta della pianta ai diversi suoni. Vedete, qui abbiamo un altro esempio. Questo è un vigneto in cui i colori impimitano, per esempio, anche produzioni diverse. Posso valutare, qui abbiamo un 1,2 kg per cefale, io ne ho 3,7 kg. Vedete, il rosso è debole, l'azzurro è rigoroso. Ma stranamente, cosa ne fa di tipo un tono di questo? Beh, vendemmia in modo diverso. Vendemmia alla parte più debole prima e vendemmia alla parte più vigorosa dopo. Ma non solo. Interviene con concimazioni differenziate, vedremo. Ecco, questo è il modo con il quale si fa la misura dell'intrarosso dell'emissione, quindi io misuro il vigore della pianta e poi correlo in questo vigore alla risposta in produzione in succo di acidità e antociare. Qui sono gli utilizzi, non ve li spiego. Questo è interessante, con un drone abbiamo fatto una prova per valutare a Bolgeri la distribuzione della maturità nel territorio. Vedete, i colori, come vedete, indicano una diversa percentuale di zuccheri. Allora, le parti più verdi sono quelle più zuccherine e le parti più rosse sono quelle meno zuccherine. Vedete, io posso in ogni vigneto individuare addirittura le parti che sono più mature da quelle meno mature, perché posso poi anche intervenire nella raccolta differenziata. Allora, queste informazioni mi servono per fare quella che viene chiamata la tecnologia, la viticoltura lato variabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che io commisuro concimazione, trattamenti, scogliature di selvo e ventennia alle caratteristiche di vigore del vigneto, alla sua produzione e alla sua qualità. Ecco, ad esempio, questo è per la concimazione. Io, nella cabina del mio trattore, il mio vigneto è già rafferenziato, so dove sono le zone più vigorose e meno vigorose. Non devo mica gestire io lo spadico cime. Lo spadico cime si gestisce in base a un sistema di apertura, di chiusura della distribuzione in funzione del fabbisoglio. Quando vado in una zona debole quello si apre, quando in una zona forte quello si chiude. Quindi risparmio anche del 30% di concime, ma la cosa importante è che in 4-5 anni riequilibrio il mio vigneto. Lo porto in condizioni standard. Non ho più la zona produttiva e quello non produttivo. Così, vedete, questo è un vigneto prima della prova di continuazione, e questo è una vigneta georeferenziata. Questa è la quantità di azoto che viene data in funzione del vigore. Vedete, i colori sono da 4 kg fino a 30 kg per etero misurati e quindi nelle torri deboli vanno 30 kg, nelle torri forti o più a 60 kg. Dipende dove sono le mie prove, ma per dirvi come questo si può fare ormai abbastanza facilmente. Ci sono, diciamo così, delle società di continuismo che mettono in posizione la macchina per fare queste concentrazioni differenziali. Ma adesso cosa capita per i terribili? Per i farmaci. Voi pensate che quello che noi diamo sul bersaglio ne va dal 20 al 34%. Il diretto si disperda dell'aria, della terra, delle derive. Quindi anche lì dobbiamo fare in modo di migliorare il rendimento. Allora cosa dicevi? Davanti alla trattrice abbiamo un sistema di valutazione della chioma ad ultrasuoni. Quando il trattore entra in una zona con molta chioma, fa aprire il distributore. Quando va in una zona con poca chioma, lo chiude. E quindi si risparmia anche il 50% di prodotto. In modo automatico. Non ancora c'è di aprire e chiudere. Ci pensa la macchina a farlo. Così possiamo vendemmiare in contemporanea un vigneto mettendo su una vasca della vendemmiatrice una qualità dell'uva e sull'altra la seconda qualità dell'uva. La macchina opera separatamente su un'uva più matura e meno matura e la mette sempre con quel sistema di zero differenziamento che abbiamo fatto prima. Vabbè, qui vedete la differenza delle due raccolte e la differenza anche nella composizione chimica. L'altra cosa importante, finisco, è quella dell'uso di questi dati. Voi capite che si raccogliono una quantità enorme di dati. Dati relativi al suolo, relativi al clima, relativi alle produzioni. Questi dati purtroppo vengono dispersi. Non riesimo mai a metterli assieme. Ora sono create queste dataforme webgis cosiddette, le quali prendono questi dati in serie storiche raccolti in modo serio e vengono elaborati in un certo modo. Cosa servono questi dati elaborati? Servono a creare dei modelli di previsione. il nostro obiettivo non è quello di subire un danno e magari poi reagire al danno, ma di prevenirlo. Dobbiamo essere capaci un mese prima, tre giorni prima, di capire come funzionerà e quindi andare alla soluzione. Queste piattaforme ci danno il messaggio. Io non entro, ci vorrebbe un pomeriggio per spiegarvi i funzionamenti di queste piattaforme. Un esempio sul rischio patologico, sul quota di rischio. Mi dice quando trattare e nelle prove fatte da noi in questi ultimi 5 anni abbiamo risortato il 50% dei trattamenti. Sono utilizzando i modelli previsionali di queste piattaforme di gestione. E la cosa importante è che possiamo utilizzare il smartphone come strumenti di conoscenza. Intanto le piattaforme operano non su territori molto ampi, ampissimi, ma vanno all'etero, al mezzo-etero, ai mille metri. Cioè il dato che viene raccolto, molto spesso utilizzano i satelliti, se abbiamo una rete straordinaria di satelliti che operano con precisione di mezzo metro all'etero del terreno, o anche un metro, quindi con precisione altissime. Noi costruiamo allora degli strati, lo strato del suono, lo strato del clima, lo strato del porti in metro, lo strato della varietà. E su questa distribuzione di conoscenze noi facciamo di alcuni anni le previsioni. Il calcolatore elabora un modello che dice quest'anno è molto simile a quell'anno lì in cui abbiamo avuto quell'effetto lì, quindi tu stai attento che puoi andare verso quella cosa lì. Questo qua viene lavorato da un smartphone con una delle applicazioni, questa qua è un'applicazione che mi dice il rischio di colonoscola, quindi tignoma, assente, presente, grave, e mi dice quando trattare. Così posso farci la maturazione. Mi dice in quel vigneto, in quel posto, mi fa vedere con Google, il posto preciso dove io sono e dove io opero, e mi dice guarda il pino nero o il nagraide è a quel punto lì, quindi tu hai quel grado, hai quel pH, hai quell'acidità, il rischio di racconto, e mi dice quando devo vendemmiare. Guarda da cinque giorni, tra due giorni, allora il tecnico della cattina sociale, questo è un progetto che era partito da la cavi, che è una cattina di secondo grado, il tuettino, dove raccoglie undici cattine sociali, questo gli serve per gestire tutta la vendemmia in un campo climatico, la cosa importante è che non basta maturare l'uva, sia per l'eccesso di alcol, ma anche perché si perdono i profumi, si modificano negativamente i contenuti puliferolici, quindi raccogliere tempestivamente vuol dire raccogliere una materia priva importante per la benificazione, e questo ve lo consente, ma non solo, mi programma tutto il nuovo video, dice guarda tu lì non piantare più l'aglaino, il pinot nero o il chardonnay, lì è una zona laterode, perché il risultato è quello, quindi programma anche il suo futuro. E quindi l'ultima cosa è questa, rapidamente, sta partendo a livello nazionale e ogni regione stanno facendo i bandi, quello che viene chiamato PSR 2020, quindi una grande opportunità finanziaria che finanzia con la misura 16 l'applicazione dell'innovazione su questi elementi, sostenibilità, cambio climatico, velocità, commettività, governance e macro. ecco noi dobbiamo, parlo noi per dire campagna, per dire la vostra regione, mettere assieme delle aziende per poter sviluppare un qualche progetto, su queste macro aree è ad esempio la tonazione, l'uso dell'articoltura radiovariabile o di precisione e la piattaforma sono coerenti, perché c'è sostenibilità, c'è cambio climatico, c'è velocità, c'è competitività, quindi su questi tre grandi argomenti si può costruire benissimo un grande progetto per i vostri futuri. Grazie per l'attenzione.